ciao amiche da sempre vorresti eliminare i fastidiosi cuscinetti di cellulite sulle cosce vediamo allora insieme la strategia definitiva per farlo in soli 6 step se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra 1 attività aerobica andate in bici o correte due volte a settimana fate esercizi di tonificazione per esterno coscia con pesetti ed elastici fate delle posizioni yoga per riattivare la circolazione come quella della candela 2 alimentazione equilibrata fatevi consigliare una dieta adeguata per voi con un basso apporto di zuccheri e ricca di proteine per sciogliere il grasso 3 integrazione assumete un buon integratore drenante quelli a base di carnitina centella bromelina agiscono come drenanti e lipolitici 4 crema cosmetica applicate regolarmente una crema drenante anticellulite fate dei movimenti circolari e pizzicate la pelle dolcemente per attivare la circolazione una volta a settimana fate un leggero scrub con sale marino sulle zone interessate 5 mesoterapia e massaggi per risultati più profondi si possono fare dei trattamenti specializzati si possono eseguire dei massaggi drenanti settimanali di almeno 40 minuti o la mesoterapia che grazie a delle iniezioni lavora in profondità molto utile anche l'automassaggio alle gambe che drena la cellulite info in descrizione 6 creolipolisi per un trattamento ancora più intenso c'è la creolipolisi si tratta di una tecnica non chirurgica ed efficace che sfrutta il raffreddamento controllato per colpire le cellule di grasso localizzato bene amici oggi abbiamo visto alcune strategie per eliminare la cellulite per vedere tanti altri video di consigli per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate ho parlato di dimagrimento localizzato sulle cosce anche in questo altro video lo trovate in descrizione se amate leggere in descrizione trovate il link ai miei libri ed ebook dedicati anche alla cellulite soprattutto al dimagrimento delle cosce essere in forma importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali